www.fasciaincurta.com Benvenuti a Fascia Incurta, a tutti chi ne scotta su. Questa la neves del Comun Generale di Fascia per questa settimana. Il compagnamento verso la fin della vita è un momento delicato e importante, di quel che fai bisogno a essere consaputa, per esser boi di dare il dretto di da mente e il dretto valore. L'Associazione Recurre Meolnus, dissema col Comun Generale di Fascia, l'Associazione Il Sollievo e l'Accesa di Pausa di Fascia, dissema con l'Azienda Provinziale per i Servizi Sanitari del Trentin, e in conto di che questo argomento costruita di grande importanza, gli è indrezza un corso di formazione che ha in nome Cura e dignità essere volontari nell'ambito delle cure palliative. La cure palliative, dal latino pallium, che vuol dire mantel stravardamente, le spaventa appuntino l'assistenza alla persona che le spade una malattia perché la che non è più possibile metter agire cure. E le svegne sportes col fin di controllare il dolore e i sintomi. Le lezioni le svegneranno a metodese agire del Comun Generale di Fascia dai 6 di Mertz e fino ai 20 di Oril, ogni sebbia domesdì. La prima delle scontradi che le 6 di Mertz le sarà dalla 2 alle 4 domesdì, e invece le scontradi che le 6 di Mertz le sarà dalla 2 alle 5 domesdì. La formazione l'ha avuta tutta quella persona che le svegne conoscere e dirte il fondo di questo argomento, e se in caso sopportare ad andeschi ai volontari di sviluppare strutture di di da mente e cura. Il volontario, appuntino, rappresenta una presenza preziosa per le persone maledie e per sé famiglie, tant'eccesa e che te ospiti che te cesa di pausa, a sacchere il posto di vizinanza, scuota, attenzione e sensibilità della vita e del contesto di pazienza. A ogni scontradi tollerà aperte esperti ai dottori del settore clinico e terapeutico. La prima scontradi ai 6 di Mertz la sarà di presentazione e la rai nome, cure palliative e la rete dei servizi, e la venirà a portare da Dante dal dottor Gino Gobber. Ai 23 di Mertz l'argomento sarà prendersi cura il significato della volontarietà, col dottor Roldano Cattoni. Ai 30 di Mertz portarà da Dante a scontreda il volontario nelle cure pallative il come, quando e perché, la dottora Cecilia D'Arri. Ai Siedoril vennerà a resonare dei ruoli dinamiche delle famiglie nel processo della malattia, del sema con la dottora Mara Marchesoni. Della ultima due scontredes invece vennerà a resonare della pruma dell'argomento Implicazioni Etiche e Accompagnamento di Fine Vita, col dottor Alessandro Martinelli e la dottora Loretta Rocchetti, e della seconda dell'argomento Gestione delle Emozioni, col dottor Stefano Bertoldi. Vi metto in consaputa che l'estate metto fuori per farsa una selezione pubblica, per tornare su un fisioterapista a quel che giovegnerà dazzù l'anceria di 8 ore sette in settemena, che c'è la pausa di Vic. L'anceria l'anaregneda di 3 anni, dal prum de me del 2017 ai 30 d'oril del 2020, con incontratte di prestazione professionella di sort privatistica, che per venire sperando già, se in caso, a mo' per 3 anni. Vennerà a valutare i titoli di studi e professioni di candidacce, tra una prova pratica e una prova a OUS. Per chi che ha interesse, la domanda di ammissione la connerà a venire mettuta su un papir semplice e portate da ITE da anche se fuori alle dode dai 24 di marzo del 2017. Per i modui della domanda e per altre informazioni, potete uscire sul sit dell'accesa di pausa di farsa, www.apspfarsa.it. La neve dal Comune General e dai Paesi di farsa viene settemena su un TML, canale numero 642, o su nostro canale YouTube, programmazione laddina TML. Entra su un Radio Studio Record, di sabato e domenica, da 3 giorni alle 10 e da 3 giorni alle 6 domenzi. Deve il Pai viene a arrivare da su, se vediamo la settemena che viene. www.apspfarsa.it